ciao a tutti e bentornati sul mio canale proseguiamo la lavorazione delle uova in diverse tecniche oggi vediamo la tecnica decoupage ci sono delle altre uova con questa tecnica qui però andiamo ad aggiungere una pasta modellabile per creare questo effetto tipo guscio d'uovo rotto lo vedete qui da questa inquadratura iniziamo col materiale questa che avete visto è la carta vetrata 240 è una carta sottilissima e serve per toglierle in regolarità dalle uova oltre al tovagliolo all'uovo in polestirolo e alla pasta ecco qui l'ho inquadrata pasta modellante ci servirà la colla da decoupage un pennello per stendere la colla un pennello più sottile se vogliamo fare dei piccoli dare dei piccoli tocchi questa è una cosa in più lo sapete che faccio sempre decoupage pittorico per cui andiamo anche a lavorare col colore alla fine torno a dire non è necessario ci si può fermare tranquillamente al decoupage allora per prima cosa avete visto sono andata a carteggiare con movimenti circolari per togliere le irregolarità dell'uovo questo è polistirolo e è ben difficile che lo troviate perfetto in genere ha sempre qualche segno comunque sia fatto ciò togliamo la polverina e avete visto che ho tolto i due veli bianchi del tovagliolo il tovagliolo una parte stampata e ha due veli a volte uno ma in genere sono due bianchi che vanno tolti qui vi faccio vedere la tecnica dello strappo si strappa semplicemente con le mani non si usano le forbici perché danno dei tagli netti che si vedrebbero e andiamo a estrapolare i soggetti che ci interessano da mettere sul nostro uovo quindi una volta che abbiamo fatto questa operazione andiamo poi qui lo facciamo in modo grossolano una volta che abbiamo staccato la parte che ci interessa andiamo un attimo a provarla sopra il nostro uovo e andiamo ulteriormente a togliere tutto quello che si può togliere parlando di sfondo lo sfondo di questo tovagliolo è bianco e quindi andrà integrarsi perfettamente sulla base del nostro uovo che è bianco adesso andiamo a fare delle pence dei piccoli tagli vedete qua intorno questo perché noi andremo a incollare il tovagliolo su una superficie tonda di conseguenza farebbe troppe grince adesso vi faccio vedere come andiamo a posizionare la colla e cosa ci serve fare queste pence andiamo a stendere la colla dal centro verso l'esterno in modo tale che il tovagliolo si distribuisca in modo uniforme dove ci sono le pence ci fermiamo un attimo vedete io sto sollevando vado a incollare una parte e l'altra sollevata leggermente si sovrappone essendo trasparente il tovagliolo non crea problemi proseguiamo in questo modo fino al termine dell'incollaggio ho preso il secondo uovo che è più grande rispetto a questo e sto facendo l'operazione che abbiamo fatto prima ossia sto carteggiando questo era molto rovinato sto carteggiando con la carta vetrata sottile tolgo la polverina che si è formata e adesso vado a mettere la mia pasta modellabile vedete utilizzo la spatola e quindi vado a imitare il guscio d'uovo per così dire un guscio d'uovo che sia rotto terminata questa operazione lo mettiamo ad asciugare io ho infilato un bastoncino di legno quello degli spiedini e l'ho infilato vedete in una base in polistirolo in modo tale che rimanga fisso faccio la stessa operazione sull'altro uovo e lo mettiamo ad asciugare tra un passaggio e l'altro anche quando mettiamo il tovagliolo naturalmente faremo prima asciugare una facciata e poi faremo l'altra adesso andiamo a fare decoupage allo stesso modo sull'altro uovo ma vi voglio far vedere una tecnica diversa su come ritagliare il nostro soggetto prima l'abbiamo fatto con lo strappo adesso vi faccio vedere un altro metodo prendiamo un pennellino piccolo tondo e lo intingiamo nell'acqua dopodiché andiamo a bagnare il contorno anziché strapparlo come abbiamo fatto prima con le mani vedete andiamo a bagnare tutto intorno non eccedete con l'acqua perché poi vedete che si allarga è la macchia e in questo modo si può staccare il nostro soggetto molto facilmente qui io non ho tolto prima i due veli bianchi ma li tolgo dopo questo per avere un pochino più di consistenza per fare questa operazione potete comunque anche toglierlo prima poi dipende anche dalla vostra manualità e dall'abitudine poi che andrete ad acquisire nel frattempo la pasta è asciugata quindi possiamo iniziare a fare decoupage anche su quest'uovo che è più grande ecco qui vi sto vi ho ora non vi sto ripetere naturalmente quello che abbiamo già fatto perché è la stessa cosa che abbiamo visto in precedenza lasciamo asciugare un lato prima di proseguire con l'altro e andremo a piacere a ricoprire il nostro uovo io ho fatto tutti i lati andiamo adesso a preparare una piccola tavolozza di colori avremo bisogno innanzitutto dell'avorio e lo componente con una punta di ocra gialla e molto più bianco andate a miscelare e vedete se ottenete la tonalità che è la stessa che avete sul fondo del tovagliolo in modo tale che andiamo a uniformare con questo colore tutto lo sfondo del nostro uovo prepariamo anche sulla tavolozza un pochino di verde e un grigio nero e bianco e create il grigio per ottenere un verde il più possibile simile a quello delle nostre foglie per dare piccoli tocchi qua e là se volete ovviamente andiamo a miscelare al verde che abbiamo preparato un pochino di ocra gialla che abbiamo già sulla tavolozza otterrete un verde linea di massimo più spento rispetto a quello che trovate direttamente nei tubetti intendo che anche lì ci sono tante gradazioni ma qualunque gradazione abbiate scelto la spegnete con un po di ocra gialla e andate qua e là a fare piccoli tocchi o integrare magari qualche fogliolina a piacere come state vedendo e a questo punto la lavorazione a decoupage decoupage pittorico è terminata facciamo la stessa cosa sull'altro uovo qui naturalmente avremo dei colori simili a quelli del nostro tovagliolo per cui avremo il viola molto schiarito con il bianco qua e là qualcosa di azzurro sempre mi raccomando schiarite i colori il grigio ci servirà come state vedendo per dare dei chiari oscuri vedete qui dove abbiamo la fine del nostro guscio le nostre uova sono terminate se volete potete dare se le volete rendere lucide una mano di vernice finale all'acqua lucida sono molto belle anche opache anche perché il guscio è opaco per sua natura limite potete lasciare il guscio opaco e rendere brillante laddove abbiamo la decorazione adesso state vedendo una cosa che vi voglio proporre è il metodo la tecnica della schizzettatura trovate su questo canale nella playlist tecniche decorative proprio questa tecnica spiegata dettagliatamente consiste comunque nello schizzettare vedete io sto utilizzando uno spazzolino da denti potete utilizzare qualsiasi altro attrezzo che abbia delle setole rigide l'ho intinto in questo caso nel grigio e vado a spruzzare su tutta la superficie posso fermarmi qui se lo voglio rendere ulteriormente rustico vado a utilizzare anche il nero il colore è colore acrilico molto molto diluito lo stato quasi acquoso vado a intingere mio spazzolino e vedete che sto schizzettando tutta la superficie potete fermarvi solo sul guscio dell'uovo o farlo tutto e in questo caso avrete un risultato decisamente rustico è una cosa diversa rispetto alle a quelle che abbiamo fatto finora anche negli anni precedenti adesso io vi inserisco un'immagine dove andrete vedere nello specifico il risultato che si ottiene soprattutto sul guscio la schizzettatura ha dato un tono decisamente rustico vedete il guscio io l'ho fatto anche sul resto dell'uovo quindi grigio nero bianco questi sono i tre colori che utilizzato per la schizzettatura state vedendo questi piccoli punti luce che io ho inserito sulla sommità delle due uova è un notevole contrasto rustico con una nota di luce potete metterlo non metterlo a piacere potete utilizzare anche uno spillo gli spillini che hanno la capocchia a modi perlina diciamo detto ciò state vedendo il cestino che a questo punto dove si è introdotto anche un pulcino direi a buon titolo perché nasce dall'uovo tutte le altre uova le trovate nel playlist sul mio canale uova oppure pasqua siamo arrivati al termine io vi ringrazio per l'attenzione come sempre vi dico non perdetemi di vista cioè tenetemi d'occhio ciao a tutti